Vi presentiamo una startup innovativa e rivoluzionaria, si chiama LimeNet, è nata all'ECO ed è nata con l'obiettivo di trasformare l'anidride carbonica in una soluzione acquosa di bicarbonati di calcio con potenziali effetti benefici per l'ecosistema marino. Per fare questo LimeNet ha messo a punto una tecnologia che permette lo stoccaggio del carbonio in forma di bicarbonati, ma per farci spiegare meglio di come funziona questa tecnologia e di come è nata LimeNet do il benvenuto al prossimo ospite che è Stefano Cappello, CEO e founder di LimeNet. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Grazie, grazie per essere con noi. Allora, ci spiega appunto come funziona questa tecnologia di LimeNet e in che modo dunque LimeNet aiuta a contrastare il cambiamento climatico. Sì, allora LimeNet è appunto una start-up italiana che nasce circa un anno fa come società, anche se siamo frutto di diversi anni di ricerca e sviluppo fatto col Politecnico di Milano. Abbiamo in pratica industrializzato e stiamo portando sul mercato una tecnologia che prende ispirazione da un ciclo naturale che si chiama ciclo geologico del carbonio, dove naturalmente la CO2 viene immagazzinata da una roccia chiamata carbonato di calcio calcare e come viene questa immagazzinazione? In pratica questa roccia si scioglie tramite il dilavamento delle rocce carbonatiche e successivamente questa roccia si trasforma da carbonato in bicarbonato di calcio. Questo bicarbonato di calcio successivamente viene, diciamo, arriva nel mare e successivamente ci rimane per migliaia, decine di migliaia di anni. Questo processo si può trovare in natura quando si va a vedere le grotte carsiche dove ci sono le stalagmiti e le stalattiti. Ecco, le rocce che si sono disciolte o comunque che sono corrose nel tempo non riusciamo a farlo al posto che in migliaia di anni in pochi minuti. E questa è un po' l'innovazione che stiamo cercando di sviluppare e portare sul mercato. Ecco, questa è l'innovazione e la tecnologia che LimeNet usa, però facciamo un passo indietro e quindi voglio chiedere da dove viene l'idea di fondare LimeNet e quali sono state, se ci sono state, delle difficoltà iniziali, diciamo, nell'intraprendere questo nuovo percorso innovativo? Sì, appunto, l'idea di fondare LimeNet nasce da un po' un mio bisogno di voler cercare di far qualcosa di concreto per contrastare il cambiamento climatico. Spero che tutti gli ascoltatori sappiano che purtroppo il cambiamento climatico è già avvenuto, sta già avvenendo ed è molto più veloce e molto anche più silenzioso, seppur ultimamente sta iniziando a fare un po' di rumore di quello che noi pensiamo. quindi il problema è la CO2 antropogenica che noi abbiamo emesso e che stiamo tuttora emettendo e se vogliamo mantenere questo nostro stile di vita dobbiamo trovare delle soluzioni per prima di tutto ridurre le emissioni CO2 o comunque ridurre il nostro stile di vita molto consumistico e successivamente cercare di evitare che la CO2 venga emessa una volta che riduciamo le emissioni CO2. Però in ultima istanza dobbiamo rimuovere la CO2 che abbiamo emesso in atmosfera e quindi le industrie, persone o comunque gruppi di ricerca stanno cercando in tutti i modi di trovare delle soluzioni a questo problema. Io mi sono affrontato o meglio affrontato nella mia esperienza, ho toccato con mano come si può dire gli effetti che purtroppo il cambiamento climatico sta facendo sul nostro ambiente, dallo scioglimento degli acciai. Io vivo Nord Italia, Alecco, quindi tra le montagne e purtroppo sin da piccolo noto che gli acciai si stanno ritirando in una maniera molto incontrollata e questo un po' mi preoccupa e non mi preoccupa per la mia generazione ma per le generazioni soprattutto che verranno in futuro. E quindi questo mio bisogno di cercare di effettivamente con mano risolvere questo problema ha fatto sì che trovassi nel mio percorso questa tecnologia che veniva sviluppata da alcuni miei soci che sono diventati e da questo gruppo di ricerca del Politecnico di Milano e di conseguenza ho detto uniamo capra e cavoli, facciamo una start-up e cerchiamo di trovare investitori e raggiungere il prima possibile il mercato e anche non solo il mercato ma anche divulgare che è possibile risolvere il cambiamento climatico bisogna volerlo. Ecco lei appunto parlava di questa necessità di sensibilizzare sul cambiamento climatico e anche di dover fare qualcosa e dover intervenire. Infatti da qui nasce un po' la la prossima domanda che è anche un po' più personale perché comunque lei inizia la sua carriera in un ambito completamente diverso e in una realtà completamente diversa e ha sentito poi la necessità di fare questo cambio di rotta anche importante. Com'è stato ecco diciamo in qualche modo stravolgere anche la sua carriera lavorativa ecco? Sì allora io ho fatto il Politecnico di Milano, ingegneria meccanica e successivamente sono diciamo ho fatto delle esperienze in alcune società abbastanza grosse, si possono penso dire nomi comunque Leonardo ho fatto due anni Leonardo, lavoravo su diciamo aerei militari e questo seppur fosse un cosiddetto dream job per appassionati di aeronautica purtroppo non soddisfaceva la mia etica personale e nel frattempo appunto ho iniziato a collaborare nel mio tempo libero utilizzando le ferie che appunto il lavoro Leonardo mi concedeva sabati domeniche compresi per cercare di sviluppare questa tecnologia che era su carta una tecnologia che poi è stata la base di LineNet. Quindi non è stato davvero un diciamo un cambio repentino ecco di questa mia carriera lavorativa ma è stato una una sorta di di inizio abbastanza lineare che poi è sfociato con il mio licenziamento da lavoro dipendente Leonardo e un po' di mesi ecco da come si può dire da non come si può dire da una persona che stava ricercando investitore per strutturare la società e dopo circa mi pare otto mesi sette otto mesi abbiamo trovato i primi investitori e ho costituito LineNet. Quindi sicuramente il quello che mi spinge ecco a portare avanti questa iniziativa è il fatto che è davvero necessario noi giovani o comunque che la nostra generazione effettivamente effettivamente sia il cambiamento che tanto si parla eh magari ancora in modo poco concreto. Ecco io vorrei cercare di portare in Italia eh un cambiamento concreto fatto da tecnologia eh come si può dire tecnologia ecco industriale forte. Ecco diciamo che comunque questa tecnologia di di LineNet sta riscuotendo successo e sta crescendo perché insomma voi avete realizzato un impianto pilota alla Spezia e proprio recentemente avete stretto un accordo importante con Clima DAO che è una piattaforma statunitense che attiva nel mercato volontario dei crediti di carbonio. Ecco insomma quindi il percorso di LineNet prosegue e prosegue spedito mi verrebbe da dire. Sì è corretto ecco ovviamente speriamo che vada sempre bene ehm effettivamente stiamo riscontrando molto successo o comunque molto interesse poi il successo sarà il tempo a dirlo però noto che c'è molta attrazione che nel gergo delle startup vuol dire molto interesse a all'iniziativa che stiamo promuovendo ehm ovviamente ehm cioè siamo solo agli inizi quindi c'è tantissimo da fare e la mia visione di LineNet nel futuro è è molto ambiziosa quindi ehm mese dopo mese stiamo strutturando il team stiamo strutturando la società che abbiamo l'ambizione faccia veramente la differenza nel futuro. E allora prima di salutarci insomma di ringraziarla per essere stata nostro ospite ci può anticipare insomma qualche progetto futuro che qualcosa che può anticiparci insomma nei prossimi passi nel percorso di LineNet se può anticiparcelo. Sì 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 allora LineNet attualmente sta cercando di ehm industrializzare questa tecnologia a livello commerciale quindi abbiamo diverse milestone eh per e obiettivi per quest'anno che sono molto strategici per dimostrare che questa tecnologia a livello industriale è fattibile ed è una una delle soluzioni eh che attualmente sono disponibili sul mercato quindi non la soluzione ma una delle soluzioni attualmente noi stiamo abbiamo stretto una un accordo con un accordo ecco di collaborazione a fini scientifici con l'autorità eh di sistemi portuali del ehm di Augusta e quindi di ehm diciamo uno stakeholder su un portatore di interesse molto importante per questa iniziativa in quanto l'autorità di sistemi portuali ehm diciamo opera sul mare e il comune di Augusta e questo ci permette di poter dimostrare questa tecnologia a livello praticamente commerciale per eh quest'estate appunto di ad Augusta ehm ed è molto importante perché va a eh cercare di di portare anche in Italia un valore aggiunto eh un po' tra i primi al mondo e questo mi rende davvero orgoglioso e e fiero di essere ecco tra i questi pionieri nel nostro territorio di queste nuove iniziative di rimozione della CO2. E allora noi ovviamente continueremo a seguire i progressi di Limnet intanto vi facciamo un grosso in bocca al lupo e ovviamente ringrazio Stefano Cappello CEO e founder di Limnet per essere stato ospite questa sera a Rapporto Mondo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e arrivederci. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.